Ad inizio prossima settimana potrebbe esserci la definitiva riapertura dell'attraversamento carrabile e pedonale di Via Vecchia Barletta, chiuso ormai da quasi dieci mesi per i lavori di interramento della ferrovia nell'abitato di Andrea. Piccoli ma significativi passi in avanti per il progetto che sta interessando un percorso cittadino di tre chilometri e che procede ora senza grossi intoppi, anche perché dal mese scorso il cantiere è interamente a disposizione della ferrotranviaria e del consorzio integra che si sta occupando dei lavori. La riapertura di Via Vecchia Barletta riporterà la viabilità come era prima, con la conseguente chiusura del passaggio di vetture all'interno del mercato ortofrutticolo e la rimozione della rotatoria di Via Lissa, un punto questo di poche centinaia di metri dove però bisognerà scavare da zero per completare definitivamente il tunnel. Nel frattempo sono almeno sei punti sul percorso in cui gli operai sono al lavoro. Si scava ancora in un paio di punti per completare le cisterne di raccolta delle acque, mentre si cominciano a intravedere lavori più consistenti nei pressi delle stazioni di Andria Nord e di Andria Centro, dove nel frattempo sono già comparsi i pilastri centrali che accompagneranno la posa della copertura della stazione. Si lavora anche nei pressi di Viale Gramsci, dove è eliminata la rotatoria e concluse le operazioni per i micropali. Si scava per arrivare alla quota del tunnel, si lavora sulle cisterne più avanti verso Via Biceglie, dove nel frattempo c'è un passaggio pedonale alternativo e si sta mettendo in quota l'inizio della discesa dei binari prima di installare il ponte di ferro che scavalcherà la strada, dove invece restano delle incognite sul nuovo mercato ortofrutticolo, che al momento non è ancora pronto e questo farà sicuramente slittare il trasferimento degli operatori, che a questo punto non potrà avvenire prima di fine anno. Resta anche un altro problema, che al momento non è stato ancora risolto, la scadenza di giugno prossimo. Si va verso una formale proroga dei lavori, quanto meno a fine anno, una proroga che tuttavia ancora non c'è formalmente da parte dell'Unione Europea e questo inevitabilmente non lascia ancora sereni in vista dei tanti lavori ancora da completare per consegnare formalmente l'opera.